Passa i moderati per Caltanissetta, la consigliera comunale Gialla Ambra, intata in consiglio comunale all'interno del Polo Civico, transitata poi al gruppo misto ed infine ad un anno dalle elezioni amministrative al pro dal gruppo di opposizione che ha come capogruppo Guido del Popolo. Insieme a Rita Daniele e Walter Dorate, proprio con Guido del Popolo, andrà a formare uno dei gruppi di area di centrodestra più nutiti. Vicino al deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso, i moderati, tranne Dorato, provengono dall'ex maggioranza. Entrata in consiglio comunale per surroga dopo la nomina ad assessore di Carlo Campione, l'Ambra, 149 voti al suo attivo, non era riuscita ad ottenere il seggio nella lista di ICS. È attualmente presidente della seconda commissione consigliere urbanistica. La scelta di passare dal gruppo misto e moderati nasce anche da una serie di dissapori, una frizione che è diventata un solco incolmabile con i colleghi del gruppo misto. La goccia che ha fatto traboccare il vaso l'aver votato in dissenso con le decisioni del gruppo durante la conferenza dei capigruppo, quando l'Ambra votò a favore dell'incardinamento della data del Consiglio Comunale sul bilancio di previsione, mentre i colleghi avevano dato mandato opposto.